1.216 distributori stradali di carburante ispezionati e 174 irregolarità scoperte, poco più del 14%. E questo è il bilancio dei controlli effettuati in tutta Italia dalla Guardia di Finanza dall'inizio del mese di agosto. Ma sono stati registrati in provincia di Napoli casi più eclatanti. Qui alcuni automobilisti sono finiti in panne poco dopo aver fatto il pieno. I finanzieri di Casal Nuovo, in provincia di Napoli, hanno proceduto al prelievo di campioni nei distributori della zona, individuando il responsabile. Le analisi chimiche immediatamente eseguite in un laboratorio specializzato hanno confermato la presenza del 15% di acqua. Il gestore è stato denunciato e l'impianto con 12 colonnini e due cisterne contenente 20.000 litri di gasolio anacquato è stato sequestrato. Sempre nella provincia napoletana è stato scoperto un altro impianto con le schede elettroniche dei contalitri alterate. In questo modo oltre 1.200.000 litri sono stati venduti in nero e le relative imposte trattenute dal gestore.